Ecco, qui adesso ci siamo passati col secondo, con un fritto misto, con le verdurine, le insalate, patate arosto. Ah, ha fatto un fritto e fuori a testa, vero? Com'è quel fritto? Buonissimo. Ok? E' buono, vero? Ah, lì, guarda, lei è bravespa. Ah, adesso siamo una quarantena, 43. E' buona sera. E' buona sera. E' buona sera, mi organizziamo il burdele. C'è stata spena, fai me couti gai, purè e cavolo. Alla, adesso la manchina è qua, però, eh?